Vabbè l'importante è questo, è partito? Vai Luca! Alisa è l'est... Alisa non è partito? Dai Luca è partito da 20 secondi! Alisa non è partito da 20 secondi! Alisa non è partito da 20 secondi! Chiara! Correggulo! Correggulo! Oggi è partito da 20 secondi! Chiara! 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 Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 No, I can't go, you know what I have to do with me, I can't go. Don't do it in fear, but fear, I don't know how it's here. I can't go, I can't go, I can't go, I can't go. I can't go, I can't go, I can't go, I can't go.